Intervento dei Vigili del Fuoco in via Edmondo D'Amici, Sassona, in provincia di Verona, per un principio d'incendio all'interno di un'officina di auto. Nessuna persona fortunatamente è rimasta coinvolta. I pompieri sono arrivati da Verona con due autopompe, due autobotti e dodici operatori e hanno spento le fiamme che hanno riguardato un'attrezzatura tecnica. Il fumo ha invaso tutto il cappanone di oltre 1500 metri quadri. Le cause del principio d'incendio di probabile natura elettrica sono ancora al valio dei tecnici. Le operazioni di soccorso dei Vigili del Fuoco sono terminate alla fine dell'evacuazione avvenuta dopo circa due ore.